Non solo calcio, tecnica e tattica, ormai il campionato di eccellenza, uno dei più avvincenti degli ultimi anni, vive e vivrà nel suo lungo epilogo anche sulla condizione mentale. Sul filo dei nervi, con tre squadre almeno, a giocarsi la promozione in Serie D. Intanto la ventitresima, appena andata in archivio, ha fatto registrare la sconfitta della capolista Pietrasanta Piombino, che la settimana prima aveva fatto fuori anche il Camaiore. A proposito dei Blu Amaranto, non sono andati al di là di un pari interno, un a uno con il Gambassi, sprecando la ghiotto occasione di riportarsi al comando. Bella invece la vittoria del Realforte Querceta sul Seravezza e con identico punteggio di 3-1, il blitz del Lamma ricorsaro a Castelfiorentino. Se ne vince una classifica che vede il Pietrasanta ancora in testa, con Camaiore e Realforte ad un solo punto, entusiasmante lotta a tre con la Cuoio Pelli che perde contatto ma rimane pericolosa. Il Seravezza può lottare per il play-off, mentre il Lamma, ringrazio alla vittoria suddetta, ha guadagnato spazio e considerazione nella lotta per la salvezza. E non finisce qui, anzi, domenica prossima il calendario offre il Super Derby Pietrasanta-Camaiore, che si giocherà al Necchi Balloni di Forte dei Marmi. Inutile negarlo, la posta in palio è altissima, anche se forse non decisiva. Proverà ad approfittarne il Realforte, che però troverà le insidie a Laghetti contro un Lamma riagguerrito. Insomma, si profila un'altra domenica da cuori forti, per un campionato avvincente e che rischia di decidersi solo all'ultimo minuto dell'ultima giornata.